Bentornati all'appuntamento con le informazioni di atvreport.it. Vandali in azione questa notte in Viale Vittorio Veneto dove ad esser preso di mira è stato il cipo in memoria di Venanzio Gabriotti, martire della Resistenza. Un gesto incivile lo ha definito il sindaco Luciano Bacchetta che promette ai tifernati indignati che al più presto il busto in bronzo sarà riposizionato sulla colonna. E dei malviventi sono entrati anche nel cimitero di Santa Lucia la notte passata asportando numeroso materiale in rame. Ieri pomeriggio invece lungo la strada statale Trebis tra San Giustino e Selcilama è divampato un incendio che ha distrutto circa due ettari e mezzo di terreno. Sul posto i vigili del fuoco e la forestale che stanno indagando per capire le cause che sono all'origine appunto del drogo. Queste e tante altre